Dio bruci i bastoni della guzzina e la pace vinca in questo nostro mondo, così Papa ha benedetto sedicesimo nella messa della notte di Natale e oggi il messaggio natalizio e la benedizione urbi e torbi. Ma è stata anche una vigilia funestata da drammatici episodi di sangue. In provincia di Potenza un 77enne ha sterminato una famiglia di vicini, mentre a Brescia un uomo ha ucciso il compagno della sua ex fidanzata. Cinque morti e tre feriti nel Cosentino per un incidente stradale. Buongiorno, dunque benvenuti a questa edizione, prima edizione. Buongiorno, dunque benvenuti a questa edizione. Buongiorno, dunque benvenuti a questa edizione. Buongiorno, dunque benvenuti a questa edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.